Buongiorno a tutti, vi parlo del prossimo incontro che sarà in questo mese il 16 ottobre dalle ore 18 alle ore 20. Ci sarà un primo step dove il relatore parlerà dell'argomento e uno spazio dedicato alla domanda. Questo incontro sarà tenuto dall'esperto del settore Stefano Cucetti che ci spiegherà e ci parlerà meglio quale meglio scegliere in base anche alle problematiche che abbiamo. Ci sarà tutto lo spazio che volete per le domande e vi darà proprio le informazioni basilari più importanti proprio per scegliere un ausilio di cui necessitiamo. Poi ci sarà lo spazio di fondo delle domande quindi avete tutto a vostra disposizione Stefano che si è reso disponibilissimo e niente poi vi ricordo a tutti comunque chi fosse interessato mi raccomando mi chieda il link. Ringrazio tutti e ci vediamo il 16 ottobre. A presto! Ringrazio tutti e ci vediamo il 16 ottobre.